Buon pomeriggio. Ringrazio sentitamente la Regione Marche, in particolare il Comune di Osimo, per l'invito ad un evento tanto importante e significativo in un giorno così simbolicamente rilevante. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 decisa infatti di istituire la Settimana Mondiale dello Spazio tra il 4 e il 10 ottobre, basando la scelta su due date storiche. Il lancio del primo satellite terrestre creato dall'uomo, Sputnik 1, avvenuto il 4 ottobre del 1957 e l'entrata in vigore del Trattato sullo spazio extra-atmosferico, il 10 ottobre del 1967. Quest'anno in particolare il tema scelto a livello globale è Women in Space, un tema a me molto caro perché evidentemente il glass ceiling, il tetto di cristallo della parità di genere, va superato anche oltre l'orbita terrestre. Lo spazio oggi è elemento chiave per la crescita economica, per la cooperazione internazionale e per la sicurezza. Assistiamo a un crescente interesse da parte di tutti gli Stati alle varie componenti delle attività spaziali, relativamente agli aspetti civili, commerciali, della ricerca, così come per quelli connessi alla difesa. Le partnership internazionali giocheranno un ruolo chiave nei prossimi anni. agenzie spaziali e istituzioni, ma anche gruppi industriali e fornitori di tutto il pianeta, sono chiamate a contribuire al processo della New Space Economy, non limitandosi all'alvio delle attività strettamente collegate alle missioni spaziali, ma estendendosi in maniera trasversale potenzialmente su tutti gli ambiti della vita economica e sociale. La New Space Economy è una realtà in costante crescita, sia dal punto di vista economico che per numero di settori coinvolti. I tempi sono maturi per consolidare il legame tra spazio ed economia, per alimentare lo sviluppo di nuove applicazioni e tecnologie derivanti dallo spazio. Si prevede che l'economia spaziale crescerà a più di un trilione di dollari entro il 2040 e potrebbe valere fino a 1,7 trilioni di dollari. È quindi essenziale rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale con gli Stati Uniti nell'esplorazione umana e robotica dello spazio, nell'accesso allo spazio e nella ricerca, attraverso un corretto approccio internazionale che tenga conto anche degli aspetti economici e di sostenibilità. La nostra relazione bilaterale nel settore è davvero speciale. Penso per esempio alla Stazione Spaziale Internazionale, di cui più della metà del volume abitabile, è stato costruito in Italia, così come ai moduli logistici che venivano caricati sullo Space Shuttle per l'approvvigionamento, moduli che continuano a destare ancora oggi grande interesse da parte dell'industria privata americana. Tutti questi eccezionali traguardi per la nostra industria sono il risultato di una costante collaborazione tra le agenzie spaziali di riferimento, LASI e NASA, e di un costante dialogo tra i due governi. Non posso non citare l'interesse manifestato dal nostro Paese attraverso la firma del programma Artemis nel novembre del 2020. Il programma Artemis, guidato dalla NASA, rappresenta un passo fondamentale della nuova era dell'esplorazione umana e dallo spazio, spingendo oltre il limite scientifico e tecnologico attuale le ambizioni del genere umano, creare le condizioni per stabilire una presenza di lungo periodo sulla Luna, avamposto della futura esplorazione del sistema solare. Come dicevo, il tema della settimana mondiale dello spazio a livello globale è Women in Space. Il nostro Paese potrà sicuramente fornire un notevole contributo relativamente alla questione di genere nello spazio, a partire proprio dal programma Artemis, sfruttando l'incredibile volano messo a disposizione dal programma fin dal suo nome, riferimento diretto alla dea Artemide, sorella gemella di Apollo, come nel precedente programma di esplorazione lunare, dea della caccia e guidatrice del carro della Luna. Non a caso la NASA, nel programma Artemis, intende inviare la prima donna sulla Luna come parte integrante del primo team di astronauti a scendere sul suolo lunare, potendo contare oggi, a differenza di quanto accaduto 50 anni fa, su un corpo di astronauti estremamente diversificato e con una presenza femminile vicina al 50%. L'obiettivo è chiaro, un'equa rappresentazione del genere umano nello spazio. Quello della gender perspective è un incontrovertibile segnale di evoluzione della società. Esperienza, capacità, sensibilità, modo di ragionare delle donne rappresentano un valore aggiunto, imprescindibile per raggiungere risultati di altissimo livello nei diversi settori, incluso quello dello spazio. È necessario continuare a promuovere l'eccellenza in combinazione con equità e uguaglianza, includendo la dimensione della parità di genere nell'ambito degli investimenti, della progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi spaziali. Affinché si possa raggiungere questo obiettivo, è necessario incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro nei settori in cui la loro presenza non è ancora soddisfacente, ma ancora prima è indispensabile che esse si avvicinino allo studio di determinate materie. Noto con estremo piacere che tra i tanti obiettivi dell'evento di Osimo vi è quello di incoraggiare le donne allo studio delle materie STEM, che le proiettano verso il settore spazio e presto a ricoprire in misura ancora maggiore ruoli prestigiosi, come quelli già oggi affidati a scienziate e ricercatrici italiane che interverranno nel corso dei lavori dei prossimi giorni, anche con collegamenti dagli Stati Uniti. Nel complimentarmi ancora una volta con il Comune di Osimo per aver colto per la terza volta consecutiva la sfida di promuovere il settore spingendosi dai confini del nostro Paese fino agli Stati Uniti, auguro buon lavoro a tutti e una settimana mondiale dello spazio, permettetemi una battuta stellare.